Avevano picchiato a sangue due ragazzi, come si può vedere nelle immagini realizzate dalle telecamere a circuito chiuso della metropolitana di Milano. A febbraio avevano accoltellato altri due sudamericani nella metropolitana di piazza De Angelis, sempre nel capoluogo Lombardo, mentre a settembre di due anni fa avevano tentato di uccidere a Pavia un marocchino indebitato con loro per droga. Oggi gli agenti della squadra mobile di Milano hanno arrestato 13 dominicani, di cui due minorenni appartenenti alla banda del Trinitario, con le accuse di tentato omicidio, rapina, lesioni, porto abusivo di armi e spaccio di sostanze stupefacenti, tutti fatti commessi dal novembre 2011 al febbraio 2014. Le misure sono state emesse dal GIP del Tribunale Ordinario Vincenzo Tutinelli e per il Tribunale dei Minori dalla dottoressa Marilena Chessa. La banda latinoamericana, molto violenta e gerarchizzata, era nota già nel gennaio 2011, quando in Viale Fulvio Testi e Cinisello Balsamo, un ragazzo di 22 anni riconducibile a questo gruppo, era stato ucciso a coltellate da decine di sudamericani. L'inchiesta della squadra mobile, partita da questa vicenda e dalla denuncia di un sudamericano vicino al gruppo rivale dei Commando, pestato da tre componenti del Trinitario, ha fatto poi luce sulla pandiglia, composta a Milano da una trentina di persone, per lo più della Repubblica Dominicana, facente capo fino al 2012 a Jonathan Larosa Pinagua e poi da Ogando Ramirez, detto Flaco, ancora oggi prima suprema di Italia, come gli indacati chiamano la guida suprema nazionale.